Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava, viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi santali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Espirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito Santo di scendere verso di Lui come una colomba. E venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore Saludato Gesù Cristo Gesù, dopo aver trascorso circa trent'anni di vita nascosta, lascia la casa di Nazareth per dare inizio alla predicazione del Regno di Dio. Condotto dallo Spirito Santo, va nel deserto, sulle rive del Giordano, dove Giovanni Battista, ormai adulto, svolge la sua missione di guidare e preparare il popolo giudaico all'imminente venuta del Messia. Egli predica la conversione dei peccati, amministrando un battesimo di penitenza. Gesù si avvicina al Battista per farsi battezzare. Si presenta come uno sconosciuto, mescolato tra la folla, come uno che si mette in fila con i peccatori, aspettando il suo turno. Quale incredibile mistero! Il figlio di Dio fatto uomo non aveva bisogno di essere batteggiato. Pur tuttavia, chiede il battesimo per compiere anche in questo la volontà del Padre. Così fa Dio. Il battesimo lungo le rive del Giordano è in perfetta coerenza con lo squallore e l'umiltà della grotta di Betlemme. Non poteva accadere diversamente. Dio è sempre fedele. Dio è sempre coerente. Dopo il battesimo Gesù, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito Santo di scendere su di Lui come una colompa. E venne una voce dal cielo, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. È un momento solenne, ricco di gravità e di importanza. L'episodio segna un evento straordinario nella vita di Gesù, non tanto per il valore del battesimo che riceve da San Giovanni, quanto per la grande rivelazione che il Padre e lo Spirito Santo fanno di Lui, proclamandolo apertamente figlio di Dio e Messia, presentandolo al mondo perché accolga il suo messaggio. Oggi la Chiesa, celebrando la festa del battesimo di Gesù, ci invita a riscoprire la grandezza del nostro battesimo. Il battesimo ci ha iniziati alla vita cristiana. Noi siamo stati battizzati e immersi nella vita di Cristo e quindi siamo invitati a percorrere la sua strada. Siamo stati invitati a rivivere Cristo nella nostra vita. Per me vivere Cristo e morire un guadagno, dirà San Paolo. Ecco allora la grande domanda di questo giorno. Il battesimo, dono di Dio, sta diventando oggi una mia risposta a Dio? Il mio battesimo sta diventando ogni giorno di più un impegno di imitazione di Cristo? Sono cristiano di nome o anche con la vita? È un esame di coscienza che dobbiamo fare costantemente. Soprattutto dobbiamo ricordarci che il battesimo dell'infanzia va vissuto nell'età adulta. Se manca nella vita adulta un forte momento di accostamento alla fede, il battesimo muore. E allora diventano vere le parole. Abbiamo tanti battezzati oggi, ma pochi cristiani. E una volta accolto il battesimo come proposta di vita, non ci si può fermare più. Difatti non si finisce mai di diventare cristiani. La vita è tutta una conversione. Il vero cristiano porta dentro di sé una perenne giovinezza. Purtroppo la dignità del battezzato è molte volte avvelita. Molti non si rendono conto della preziosità del sacramento del battesimo, per cui pensano che questo sia soltanto un rito esterno senza significato. Ogni anno festeggiamo tanti eventi della vita, ma raramente o quasi mai ci si ricorda della data del proprio battesimo e di festeggiarlo. Quella del battesimo, invece, è una ricorrenza che dovremmo celebrare con solennità, anche maggiore di quella della nostra nascita. E' dovere di ogni cristiano di fatti conoscere a fondo le basi della propria vocazione, attraverso lo studio attento e continuo del Vangelo, del Catechismo, della Dottrina dei Santi Padri e degli ottimi testi di autori sacri che hanno illuminato la vita di tutti i Santi. Non basta però conoscere gli impegni del battesimo, bisogna viverli profondamente, come afferma San Paolo nella lettera a Timoteo. Il battezzato è chiamato a rinegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. Essere cristiani significa pensare e agire come Gesù, significa vivere secondo lo Spirito del Vangelo, significa acquistare un nuovo modo di vedere, di giudicare, di parlare, di comportarsi, che rifletta pienamente quello di Gesù, nostro modello divino. Il battesimo è una scelta di vita che impegna tutto il nostro essere, tocca ogni attività, interna ed esterna, ogni professione e stato sociale. È una proposta di vita, un cammino che non ha mai termine, di fatti non si finisce mai di diventare cristiani. La vita è tutta una conversione, un salire più in alto verso la perfezione, come i santi che hanno sempre qualche esperienza nuova da vivere con Gesù o da donare agli altri. Il battesimo è una vita di amore fino all'ultimo respiro, fino a quanto si apriranno i cieli e vivremo in pienezza di luce il mistero di amore che ci è stato donato qua giù, col battesimo. Oggi, in modo particolare, vogliamo ringraziare il Signore per il dono del battesimo e vogliamo pregare la Vergine Santa affinché ci aiuti a essere fedeli sempre alle nostre promesse battesimali e a non farci mai perdere con il peccato i frutti inestimabili di questo grande sacramento. Sialudate Gesù Cristo.